L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra vita quotidiana, e uno degli ambiti in cui sta mostrando il suo potenziale è l'organizzazione e la pianificazione dei viaggi. Uno strumento particolarmente interessante in questo settore è AB Ask Laila barra B, una piattaforma disponibile sia come sito web che come applicazione mobile, progettata per aiutare i viaggiatori a risparmiare tempo e risorse, offrendo al contempo ispirazione e idee per nuove destinazioni. Ask Laila si distingue per la sua capacità di integrare diverse funzioni in un'unica interfaccia facile da usare. Grazie all'intelligenza artificiale, è possibile pianificare itinerari completi partendo da una semplice idea, come un tour del vino in Toscana o la visita a una capitale europea. La piattaforma non solo fornisce suggerimenti dettagliati su cosa visitare, dove mangiare e dove alloggiare, ma si collega anche a servizi come Booking e Skyscanner per trovare le migliori opzioni di voli e hotel in base alle preferenze dell'utente. Un aspetto notevole di Ask Laila è la sua IB personalizzazione degli itinerari barra B. Gli utenti possono specificare esattamente cosa cercano in un viaggio, come destinazioni soleggiate, sistemazioni economiche o attività adatte alle famiglie. La piattaforma risponde con suggerimenti mirati, adattandosi alle esigenze specifiche del viaggiatore. Ad esempio, se un utente desidera un hotel con vista mare o una sistemazione più economica, può indicare queste preferenze e Ask Laila troverà le migliori opzioni disponibili. L'esperienza utente con Ask Laila è generalmente molto positiva, grazie alla sua B interfaccia intuitiva barra B e alle risposte rapide fornite dall'intelligenza artificiale. Gli utenti possono facilmente navigare tra le varie opzioni disponibili, esplorando idee di viaggio e personalizzando gli itinerari in base alle proprie preferenze. Inoltre, la possibilità di vedere video e immagini delle destinazioni proposte aggiunge un ulteriore livello di ispirazione e aiuta a prendere decisioni informate. Molti utenti apprezzano la capacità di Ask Laila di fornire B informazioni dettagliate e pertinenti barra B per ogni fase del viaggio. Ad esempio, durante la pianificazione di un tour del vino in Italia, Ask Laila può suggerire le migliori cantine da visitare, i ristoranti più rinomati e gli hotel più confortevoli. Questo rende la piattaforma ideale non solo per la pianificazione del viaggio, ma anche per ottenere consigli preziosi durante il soggiorno. Le testimonianze degli utenti sottolineano spesso la praticità e l'efficacia di Ask Laila. Molti affermano di aver risparmiato tempo e denaro grazie ai suggerimenti forniti dall'intelligenza artificiale. Inoltre, la possibilità di modificare e ottimizzare gli itinerari in tempo reale consente di adattare il viaggio alle circostanze e ai desideri del momento. Con Ask Laila, ogni viaggio può diventare un'esperienza unica e indimenticabile, perfettamente adatta alle preferenze e alle esigenze del viaggiatore. Per concludere, Ask Laila rappresenta un ottimo esempio di come l'intelligenza artificiale possa migliorare e semplificare la pianificazione dei viaggi, offrendo un'esperienza personalizzata e coinvolgente. Se stai cercando uno strumento che ti aiuti a organizzare il tuo prossimo viaggio in modo efficiente e su misura, vale sicuramente la pena dare un'occhiata a questa piattaforma innovativa. Grazie per aver ascoltato. Se vi piace il podcast, non dimenticate di seguirci sui social media.